Ed è così che siamo sfuggiti appena in tempo al crollo della sala del tesoro. Non mi importa se ne siete usciti vivi, mi interessa che mi abbiate portato il tesoro. Dov'è l'adorabile tesoro che dovevate portarmi? Temo che i tesori di Lemur Kamen siano sepolti sotto a centinaia di tonnellate di terra. Mentre il dottor Bluhoel è scappato con il tesoro più prezioso e la mappa. No, no, no! Tornate là e disseppellite il tesoro di Lemur Kamen! Sapete? Il suo amato orsacchiotto! Pensavo che il tesoro più prezioso del re fosse lo centro di cristallo. Io voglio l'orsacchiotto! Posso essere io il tuo orsacchiotto? Intendi questo orsacchiotto? Eccolo! Un antico tesoro dei Lemuri in edizione limitata! E pensare che stavo per usare Mortino come mio orsacchiotto! Voi pinguini siete il meglio del meglio! Avete salvato il mio orsetto Pezzotto! È il momento di festeggiare Pezzotto! Festa con Pezzotto! Festa con Pezzotto! Chi è il miglior Pezzotto? Pezzotto! Pezzotto sei tu! Non è stata una disfatta totale, eh, Skipper? Fermeremo Bluhoel la prossima volta. Sapete, ragazzi? Avete ragione. Siamo sopravvissuti a una maledizione, al crollo di una grotta e a un delfino impazzito. Questa non è la fine. È soltanto l'inizio. Ora? Cinque secondi alla chiusura dello zoo! Kowalski, situazione ai visitatori dello zoo? Convergono ai cancelli d'ingresso, come previsto. Rico, tutto pronto per la nostra strategia d'uscita? L'ultimo visitatore è uscito dal cancello! Ottimo! Quindi quanto tempo ci resta per l'operazione caduta tassi? Diciassette ore! Kowalski, leggimi ancora una volta la tabella di marce. Ore 5.35, decollo per Saskatchewan. Ore 10.10, arrivo a Saskatchewan. Ore 1.30, tasso catturato e sedato. Ore 2.45, sosta per guardare i pescherecci. Ore 4.30, volo di ritorno a New York. Ore 9.55, liberiamo il tasso. Precisi come un orologio. E con cinque minuti di anticipo. Bene, ragazzi! Si parte! Un attimo, noto del movimento. Pessime notizie, Skipper. È Alice, è proprio qui fuori e non si sta muovendo. Non prenderemo mai il volo. Passiamo al piano B. Era questo il piano B. Ok, allora al piano C. Annullare l'operazione caduta tassi. Dannazione! Se non riusciamo a sgusciare fuori dallo zoo abbastanza a lungo per completare una missione elementare come l'operazione caduta tassi, quando il dottor Blowhull farà la prossima mossa saremo spacciati. Ci servono delle controfigure. Ad esempio... Signori, costruiremo dei pinguini robot da usare come figuranti. Le loro movenze realistiche ingannerebbero persino l'osservatore più attento. Guardate, e si nutrono anche di pesce robotico, venduto a parte batterie non incluse. Sono identici a noi. Eccellente, Kowalski. Per cominciare, mi bastano alcuni materiali di base. Nessuno sa dove possa trovare un convertitore catalitico. Tutto il resto possiamo trovarlo in città. Diamo inizio all'operazione replicante. Ciao, pinguini! Maurice, dove sono i pinguini? Ci sono importanti ordini reali per loro. Non li vedo, Re Julian. Non credo siano qui. Non è una buona idea rovistare tra le loro cose quando non ci sono. Se avessero voluto tenermi alla larga, avrebbero usato dei lucchetti. Lucchetti come quelli che abbiamo spezzato per entrare? Questi progetti servono per fabbricare lemuri robot, Maurice? Devi costruirmi dei lemuri robot! Quelli non mi sembrano lemuri. Ehi, è semplice! Vedi? Basta seguire il progetto! Ma... Non ci sono ma! In... Certo, Re Julian, ti costruirò un robot! Bene, bene, bene. Siete tornati? Esatto, scimmione. È in missione ufficiale pinguina. Oh, un'altra missione pop secret. Dico bene. Dobbiamo uscire dallo zoo e raggiungere il parco lanciandoci al di là della tua parete sul retto. Lanciandovi, dite? Con una pinguina pulta! È una catapulta per pinguini! Bene. Bene. Voglio proprio vederla. Soldato, a rapporto! Adept? Squad! Qu'è noi... Didi... E lo andvenidos? Skipper, pronto all'azione! Vila d'attacco, uomini! Invertire la formazione! Skipper, pronto! Skipper, pronto! Skipper, pronto! Skipper, pronto! Kowalski, pronto! Skipper, pronto! Skipper, pronto! Skipper presente! Kowalski presente! Skipper, pronto! Skipper, pronto! Che confuso! Skipper, a rapporto! Skipper, pronto! Skipper, pronto! Skipper, pronto! Skipper, pronto! Skipper, pronto! Grazie a tutti. Soldato, questo sembra un lavoretto per me Schipper presente Lascerò questo rotta... Questa attesa mi permette di pianificare la prossima mossa Soldato pronto a partire! Skipper, pronto a partire! Skipper, pronto! Skipper presente Robots Oh sì! Oh no! Grazie.